Mmmmm, una puntata precedente. Un bar ha costruito un nuovo villaggio, che però è stato subito distrutto dalla fauna locale. Valedetti ursi! Però il giorno seguente è tornato tutto come prima. Riuscirebbe a proteggere quel villaggio questa volta? Scopritelo nel nuovo episodio... DELLA YOGBOX! Buongiorno a tutti, sono Barry! Eccoci qui in un nuovo episodio della Yogbox, come potete vedere. E, allora, in questo episodio devo finire di organizzare questo cavolo di villaggio una volta per tutte. E grazie ai vostri innumerevoli consigli e... E dopo aver letto meglio il... Coso... Do... Che descriveva la mood. Ehm... Ho capito meglio cosa fare. Perché sto andando piano, devi correre. Ah, giusto, no, no. Il... Coso qui. Ok. Allora... Ehm... Molti mi hanno detto che il cannone, purtroppo, serve solo a distruggere i blocchi e non a... Distruggere effettivamente gli animali o ammazzare qualcosa. E voglio provarlo. Perché non ci credo. Anche se voi mi dite sempre la verità. Non vuole essere che il cannone non ammazza! Volevo ammazzare il drago con il cannone! Sarebbe stato stupendo. E perché si stia chiedendo... Perché sto prendendo... La legna serve al... Ehm... Coso... Il falegname. Ehm... Ehm... Il costruttore serve. Dov'è anche prendere un po' di terra. Però vabbè. E comunque... Ehm... E si sta facendo di nuovo... No, ok. Fortunatamente no. Mi servirebbe un orologio. Intanto, continuiamo a distruggere legna. Quanta legna ho? 35 blocchi ancora. Dio santo. E ho anche letto che... Alcuni... Ehm... Alcuni... Come... Come posso dire? Cosi. Necessitano di altri cosi per poter lavorare. Ovvero, dei costruttori necessitano di altre costruzioni già fatte per poter lavorare. Tipo il... Il... Cosola, come si chiama? Il... Tizio... Come cacchio si chiama? Se dovrebbero bastare questi pezzi di legno. Comunque, il... L'agricoltore. Ecco, l'agricoltore per lavorare necessita appunto di... Dell'hunter. Che farò adesso? Allora. No, no. Una torcia con una casa. Perfetto. Intanto andiamo a dare a... Perché quella è il nome blu? Perché è il nome blu, piccola donna? Oddio, gli occhiali! Oh! E... Erdi nuovo il braccio! Ma... Qui siamo in un paese di lucertoli. Allora... Ah, ma io gliel'ho messo... Qua dentro o qua dentro? Io gliel'ho... No, qua dentro. Allora, prendi il legno. Adesso che ti serve? 81. Te l'ho messo! Wood! 80! 64! Più 30! 94! 80 grass block. E un coal. Coal ci sta. Ti, te ne do... Che altri? Ti serve il grass. Quindi... 80. Devo prenderne un altro bel po' di cosa. Dorothy! Ciao, Dorothy! Dorothy! Ciao! Come va la famiglia? Tutto bene? Dorothy! Dorothy, che bel nome! Allora... Tu proprio trovavi tanta terra. E comunque adesso è notte, quindi hanno smesso tutti di lavorare. Devo stare attento a non far... Ammazzare nessuno. Comunque ho notato che per ogni uomo si genera anche una donna. Infatti... Che... Come cacchio ti chiami? Rhard. Ah... E' sposato con Dorothy, suppongo. Poi... Lui si inchiappetta a Margaret. Ehm... Joseph Maria. E William. Un'altra Dorothy! Oh! Quante Dorothy! Però hanno un cognami di... Come... E' bello. Sei bello. Sei troppo bello. Allora... Ehm... Te servono i Saffling. Pure. No? E... Lui non ha... Ah, sì. Lui ha Maria, giustamente. Mmm... Oddio. Ehm... Non ha una gamba! Non ha una gamba! Non c'è! No! Che cazzo... Ma se non hai neanche cominciato a lavorare? Perché non è una gamba? E perché questo coso... C'è una ventola sopra? Perché non è una gamba? E perché hai della TNT a posto del cappello? Vabbè... No, vabbè... Non le chiedo più le cose perché non... Non trovo delle risposte adeguate. Oddio, lupi. Non trovo risposte adeguate. Fammi... Devo fare... Un'altra cesta dell'abitante così... Metto l'hunt. Però... Ehm... Ah, prima devo fare anche i soldi. Grazie ai goldignot. Allora, mi frega un po' di legna. Poi te la riporto, non ti preoccupare. Allora... Vediamo un po'. Chi è che russa? Sto facendo un video! Non potete russare! Fanno... Ovviamente nel gioco. Non è che c'è gente che russa mentre sto facendo video. Suppongo. Di no? Vabbè. Allora, l'hunter... Lo mettiamo... Lo mettiamo... Qua! È un bel posto qui per l'hunter. Mettiamo questo... E questo qua. Così adesso uscirà l'hunter, prima o poi. Devo mettere le torce. Così non si spawnano mob qui. E allora, adesso... Devo trasformare i goldignot... In pepite. Ma nella griglia di crafting sta scritto che si trasformano in soldi. Effettivamente... Ah, ok. Qua sta scritto a pepite. I soldi come me li faccio? Com'era che si facevano? Si facevano con l'oro. Ma non mi ricordo come cavolo si mettevano. Allora... Ecco... Sì, infatti, goldignot nella griglia 3... Per fare un 5 dollari. 5 pezzi di oro. O forse devo creare la banca per poterlo fare. Forse devo creare la banca. Proviamo. Ma non credo che cambierà qualcosa. No, infatti. Devo fare la banca. Adesso... Come si fa la banca? La banca... Vediamo un po'. Allora... Non mi inter... No, quale set item? No, Claire. Claire, becca. Allora... La banca... Banca... Cosa sei tu? Warning bell? No, eccola qua. La banca. Facciamo la banca. La banca. Un'altra... Questa mondo si... Prende taaaaanta legno. Ok, banca! E abbiamo anche una banca. La banca, se non ho sbaglio, non necessita una costruzione. Oppure sì... E... In tal caso la mettiamo qui. E vediamo un po'. Ecco qui. Adesso... Mettendo tutti i... Diamanti posso scambiarli con... Cioè, tutti i pezzi d'oro. Posso scambiarli con diamanti, con monete, con Iron Innot, eccetera. Però voglio monete. Voglio tante monete. Facciamo un 20 monete. Ok. E si è fregato 4 lingotti d'oro? Sì... 4 lingotti d'oro. E adesso... Ehm... With the draw, tesor money. Automatic salary. Build house, repair, recalseer. Next tip. Ah, questi sono i cosi. Ehm... Com'è che ti do i soldi? Allora... Nella cassa del tesoro c'è 4. 4 cosa? 4 cosa? 4 cosa? Non lo so. Comunque devo pagare il tizio... Cioè, il minatore. Vieni qua. Voleva 6 silver. Se io ti do così... Carring... Eh, ma l'altra volta mi hai chiesto di che gli dove... Dove gli dare... 6 silver. No, vabbè. Cavoli suoi. Forse li hai presi dalla cassa del tesoro. E tu? Non vuoi soldi. No, tu ha... Garot 81 wood. Ma ci sono! Vabbè, allora... Dato che non ho... Questi tizi non vogliono lavorare... Mi... Mi verrebbe da... Ok, pensavo di aver visto che gli fosse ricresciuta la gamba. Mi viene da... Da... Da prenderli a cannonate. Però meglio di no. Allora... Uh... Quelli sono... Un ottimo obiettivo per il mio cannone. Allora... Ok, l'ho messo. Oh! L'ho messo! Proviamo a sparare! Uno! Due! Boom! Boom! Non è successo in esatto... Nulla! Perché? Perché? Rompiti! Per piacere! Rompiti! Ok. Ehm... Perché non ne ha sparato... E non ne ha ucciso tutti? Ok, si stanno avvicinando verso di me... No? No? Allora, riproviamoci. Intanto ho tre palle di cannone. Allora. Cicicco! Ok, mette i rumori dei pistoni. Allora, proviamo... Bam! Ah, giusto. Con spazio. Bam! Oh! Vallo! È bellissimo! Però il tizio non si è fatto niente. Forse perché non l'ho preso. No, è bello! È stupendo! Che poi nell'icona sono rotonde. Poi li vai a sparare e sono quadrate. Ma vabbè. Voglio ammazzare quella pecora. Mirare! Puntare! Fuoco! Sì, l'ammazza! Funziona anche contro i mob! Lo sapevo! Quindi... No, ho messo. Vabbè. Ah! Boom! 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 Ah! Boom! Ok. Però fa un danno pressoché nulla. Ma vabbè. Però proverò ad uccidere il draco a cannonate. Anche se dubito di riusci... Cioè, dubito che... Non eri morta tu. No, ne erano due, ne erano due, ne erano due. Ah, dubito che riesca a fargli qualcosa, dato che toglie poco. Però ci proverò. Ovviamente mi porterò anche altre armi per prendere a cannonate l'amabile draco. E tu cosa diavolo vuoi? Dalla mia persona. Stupido. Pdero dattilo. Anche se non è uno pdero dattilo, è sempre uno stupido pdero dattilo. Che ci sono tutti questi puntini rossi. Uh, devo tornare al villaggio e vedere se li hanno ammazzati. Perché potrebbero ammazzarli in mia assenza. Dato che quei... Gli idioti non si sanno neanche difendere. Ah, ok. Piccola interruzione intanto qui. Ci sono tanti zombie perché si sentono. E si vede l'ammasso di pallini rossi. Andiamogli ad ammazzare perché fanno casino. Uh, 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 uh. Ah, ma io qua già ci sono venuto. Uh, zombie del cavolo, dove siete? Uh, zombie del cavolo? Uh, no, stanno sopra. Uh, zombie, uh. Uh, allora. Devebbero stare... Per di qua. Intanto scavo anche un po' di cobblestone. Eccoli qua. E c'è lo spawner! Suppongo, dateli... Dato la cobblestone. LOL! È uno spawner! Però è normale. Non è modificato. Ah! No! Andanati! Non è modificato. Allora, torce, 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 torce. Perfetto! No, no, le torce. Uh... Aia, 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 aia. Aia, 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 aia Che simpatici Gli zombie Allora Dopo aver distrutto Tutto questa roba qua Torniamo subito dal villaggio Altrimenti mi muoiono tutti Anche se a giudicare dai numerosi Pallini verdi Stanno tutti bene Suppongo Dai numerosi pallini verdi Che si muovono A destra e a sinistra Un unicorno No E un qualcosa Cosa diavolo Sei Ah è un coso Bugato Cosa bugato del cavolo Uh L'ho costruito Ah bello Che figata Che figata Perché le porte sono messe così Che figata Non sanno neanche mettere le porte Ma la sta finendo di costruire però Non sa Neanche Berle Sa mettere le porte Sanno neanche mettere le porte Effettivamente Effettivamente Neanche io adesso le ho messe bene Infatti Però vabbè Magari con la Cetta facciamo prima Lol Sta costruendo Oh E' bravo E' bravo Il Cozzo Ti Piccono Mettiti dove ti devi mettere Ecco qua Un E' bravo Guardalo E intanto A quanto ho visto Anche lui sta incominciando a lavorare Perché ha un'ascia in mano Uh Ha portato sei di legno Già c'erano I will not work until Hunt is bull Ma stava là L'hant Eccolo qua L'hant Perché nessuno diventa un hant Hunt Information Bull Douse Ecco qua Costruite Povero Non ha una gamba Sotto maniero Vai a costruire Che gli serve 24 glass 168 wood 88 di cablo Ston 2 coal 52 stone E 325 grass block Ah Sei Come si suol dire Perché tu non stai parlando Ah Need pk P6 No Questo è mio E No no Il ferro Te lo faccio di pietra E no no Neanche la legna Se per questo Perché un'ascia di legno Nell'inventario Ehm No Ti sei fottuto tutto il legno Mannaggia Ma questi coi No Queste grandissime persone Non dovrebbero trovarsene da soli La roba Se mi ci devo mettere io vicino A dirgli ogni cavolo di cosa che devono fare Inutile fare un villaggio Intanto questi areni saffling Che ho piantato io Non sono saffling Piantati da oro Questi barboni Del cavolo Legna Legna Quindi questa legna qua No Non l'ho presa Allora Facciamoci un po' di wood E Il resto Devo darlo a quello Però Che diamine Perché non si costruiscono La roba da soli A proposito Dovevo anche dire Che Non è necessario Che vada Nella nether Oddio quanta legna Che vada nel nether A cercare la blaze root Perché mi hanno detto Che nel deserto Quei fiori colorati Il deserto che si trova In quella direzione Villaggio del deserto Che i deserti colorati Appunto Cioè Nei deserti Colorati Nei deserti Si trovano Dei Dei fiori Luminosi Che se Mettiamo questi fiori Luminosi Nella ghiglia Di crafting Otteniamo La blaze powder Allora Non salire Fine sopra Tieni Adesso E te l'ho messo I 168 wood Cioè vabbè Non sono veramente 168 Ma sono 58 Però sono abbastanza simili No? Allora Posizioniamo No! Qua! Ok Andiamo a piantare Altri alberelli In giro per il mondo In cerca Dei pokemon E anche Di Ah! Non mi risparmiare Cioè Risparmiami Non mi attaccare Aiuto Mucca Proteggimi Mucca Mucca Salvami la vita Mi piacere Mucca Mi affido a te Sì Anch'io Ti voglio bene Ok Grazie Mucca Ti sono debitore Se è qualcosa Che qualcuno Viene a darti fastidio Sono qui E gli spacco La testolina Ah! 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 Pecola! Pecola! Salvami tu! Mi piacere! Pecola! Pecola! Ma Andaccio! Devo fare sempre tutto io Stupida Pecola Dovevi salvarmi la vita Per punizione Prenderò la tua vita Allora Dato che questo è un coso enorme Mi metto a piantare un po' di alberi Così un giorno cresceranno tanti begli alberi Che io potrò tagliare con la mia bella ascia di qualcosa Tipo ferro Cobblestone Ovviamente l'ho detto opposta male Legna Ferro Te l'ho già detto Oro no Perché fa schifo E di diamante ovviamente No perché sprecare diamante per fare delle asce Però vabbè Intanto rompiamo quest'altro legno Pioggia di legno! Amo questa mood L'amo tantissimo E non ho più spazio Perché Ecco Spazio per la legna Tanta legna 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 E anche i seffling E anche la legna Anche altri seffling E anche altri seffling E una mela E distruggiamo quest'altro legno C'è quest'altro albero Legno 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 Albero Fee Foglia Foglia Albero Albero Foglia Albero 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 Un topolino Topolino Pello No L'ho da toccare Stronzo Stronzo Non la toccare Topolino Il piccolo Dove cacchio Via Non le voglio Piccolo Dove sei? No Stronzo Bastardo No Gatto Di merda Scusate il linguaggio Stronzo Scusate il linguaggio Il mio topolino Volevo portarmelo a casa Volevo un topolino Ma questi gatti del cavolo Devo Da ora in avanti Sterminerò Qualsiasi gatto Che incontrerò Tutti Non se ne salverà Nemmeno uno Devono crepare Tutti Quei flori Dei bastardi Scusate il linguaggio Devono crepare tutti Non mi interessa Allora 64 Mh Mettiamo un po' di Seffling In giro E mettendo i Seffling Io vado in giro Mettendo i Seffling Così un giorno Qui ci sarà Una bella foresta Piena di fattine Colorate Ok basta Adesso I cavalli Non hanno Il corpo Lui non ha la gamba Laro non hanno il corpo Tu cos'è che non hai Cos'è che non hai La voce Probabilmente No Poveri cavalli Sdorsati Poveri Miei cavallucci Intanto si è fatto di buonotte Poveri Miei cavallucci Piccoli Bellini Intanto Tu già Ti sei fatto la casa Ti sei fatto la casa Per te Gli altri Li lasci a vivere Sotto i ponti Ipocrita Allora Tu quante ne volevi 168 168 Quindi Questi sono 114 Mene E ne mancano 54 A te piccone Te l'ho portato Sì Non me lo ricordo Non me ne metterò un altro Giusto per sicurezza La mia mente È poco Sviluppata Cioè La mia memoria Poco sviluppata Perché la mente Sì Che cacchio Però La memoria No Poco 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 La memoria Allora Prenditi Quest'altro Anzi adesso Te ne faccio Proprio due Così Non mi li vieni A chiedere più Per un bel Periodo Di tempo Tieni questo Te lo prendi da solo Così adesso Ne carri Uno Stone Pink 6x Una Shovel Ah Devo farti anche Le Shovel Dimenticavo Ma Che è qua Russano Sempre Russano Sempre Non è Cosa Buona E giusta Allora Tieni Carricati Saffling No Adesso Si è fregato La roba Ma che me l'ha rimessa Qua dentro E ovviamente No L'odio 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 Non ti devi Prendere Tutto quello Che passo Là dentro Cioè Quello Che mi Cade Giù Annaggia È un Idiota Qualsiasi Cosa Posso Subito La ruba Mannaggia La miseria Allora I seeds No I seeds Vanno Da quell'altro Questa No Devo Farti Il vetro Dammi La cablestone Che faccio La fornace No Cioè Ce sto Dicendo Oddio Che 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 Ah E Fire Cosa Cosa Del cavolo Che mi deve Far spaventare Intanto Perché Non nascono Più Altri Villager Uh Adesso 8 Di Tesoro Ye Però Non crescono Altri Villager Perché Uffa Ne sono 8 Tipo 2 Più 2 4 Più Altri Si Sono 8 E infatti Popolazione 8 su 8 Come Balanzo Meno 6 Come Meno 6 Come Te lo faccio A dare Io a Te il Tesoro Invece Proviamo Ad aumentare Un po' Le tasse Ma no no Aristocratici Allora Recal Bulldouse Si ma Come cacchio faccio A metterci I soldi Qui dentro Tu Piccolo Buon uomo Mi dici Come cavolo Faccio A mettere I miei Danari In quella Cesto Grazie Dell'informazione Non funziona Stupido Lavoratore Idiota Un orco Devo fare Molta Attenzione Perché Gli orchi Non sono Delle Normali Creature Ovviamente Ok Un orco Lo tengo Per fortuna Gli orchi Non sono Delle Normali Creature Ma devono Essere Shottate Senza che Loro Si rendano Conto Di esserlo Stato Cioè Di essere Shottate Tanto Lì c'è Un fantasma No Per poco Per poco Non l'ho Preso E' preso No Fermo Yeah Non Non rompere Non rompere La roba Pezzo Idiota Idiota Decimale Ok è morto L'ho visto Dalla mappa Allora Adesso Ristorniamo Su Vediamo Un poco Aia Cosa è Che è rotto Solo un po' Di terra Ok Allora Tu Piccolo Essere Deforme Prendi Questi Seed Così Io posso Prendere La terra E Andiamo A mettere La terra Ma questo Non è Neanche Finito Di costruire Il tetto Ma se Tu All'inizio Mi dici Che Necessiti Di una Di una Determinata Roba No E' che Dopo un po' Mi viene a dire No in realtà Ah no Sarei finito di fare il tetto Poi dici No in realtà Me ne servirebbe Altra Ah in effetti Questo prima si costruisce La casa lui E poi costruisce Il Town Hall Giustamente Anche se Io ti avevo chiesto Di costruire Il Town Hall Eh Allora Prenditi La cablost Prenditi la terra Prenditi anche L'ossidiana Perché Può Ritornare utile Perché Ho dei tre silver E dieci gold Ho tutti questi soldi Perché Bah la banca Mi darà una risposta Probabilmente No Non me la darà Ehm Questo cambia solo La roba Non serve a niente Ma forse Il grosso libro De crafting Porterà a me Una risposta Beh ormai Ha incominciato A costruire Le fondamenta Del suo Incredibile Villaggio Che un giorno Diventerà Un'enorme Città Ma per adesso È ancora un piccolo Villaggio Comunque Finalmente È riuscito A infondere La voglia Di lavorare Al falegname Però non C'è riuscito Anche col coltivatore Che riuscirà Nel prossimo episodio Scopritelo Nel prossimo episodio De la Yogbox De la Yogbox